Grazie a tutti, sono Gabriele Erogi, studente di seconda anno del Departamento di Scienze e Tecnologie di Politecnico di Milano. Ho lavorato nel laboratorio dell'Aerospace Systems e Contro, supervisato dal professor Marco Lovera. Nella mia ricerca ho studiato le mani per fare i droni autonomi. In particolare, i droni dovrebbero essere capiti a navigare in ambienti senza coperti GPS, per esempio in ambienti ambientali, per decidere i loro passi e le tragezioni, evitando gli obiettivi potenti per accompagnare una missione determinata, e per trovare e tracere obiettivi di interesse, per esempio per la ricerca e la ricerca e le applicazioni di surveillazione. Già nel mio maesterno ho deciso di concentrarsi sui aeroportari. E nella mia maesterno ho avuto la possibilità di arrivare in contatto con i droni multirotero di small size. Ho trovato i droni attrativi perché erano semplici a creare e a usare per esperimenti, comparati con le aeroportari convenzionali. Da quel momento ho iniziato a studiare i sistemi navigazioni e controlli di navigazione e ho deciso di esplorare questo soggetto durante un PhD. Inoltre i miei attività di ricerca, mi piace leggere, in particolare mi piace le esserze psicologiche e economiche, biografiche e novie di fantasi. Mi piace giocare in chess e sono un fan di boxe. A fine di questo anno ho partecipato a una competizione di droni autonomi, il test di Leonardo Drone Coventus, con altri 5 studenti di PhD delle università più importanti. italiane. Ho deciso di condividere per un PhD in Politecnico di Milano perché uno di loro laboratori, l'Aerospace Systems Control Laboratory, ha un background di ricerca più forte in veicoli armandali. e hanno anche un'infrastruttura innovativa per le attività esperimentali e il test di droni. Il mio aspetto favorito di lavorare come PhD è la possibilità di ottenere una profonda profonda del soggetto. e mi piace spendere il tempo durante le attività esperimentali e ho sempre stato abitato sul sviluppo recente nella mia area di ricerca.